Ciao a tutti i videomatori e le videomatrici di SFD, Deprogrammazione Mentale, benvenuti in questa nuova autodiscussione che altro non è che è una discussione che io faccio da solo in auto e poi la guardano in un milione. Oggi volevo parlarvi della mia lettura dell'agguato vero e proprio che è stato benissimo organizzato a Donald Trump nel suo confronto con Kamala Harris. Perché si tratta di agguato e perché io la vedo in questo modo? Beh, innanzitutto per come era strutturato questa tipologia di dibattito, già era fatta un po' per togliere e per sminuire, per penalizzare le caratteristiche di Donald Trump e per favorire Kamala Harris. Il dibattito è stato fatto in una rete, quella che appunto ho pubblicato, che è già di per sé di parte perché appoggia il partito dei democratici, quello di Kamala Harris. E infatti era già strutturato in una maniera in cui non c'era la possibilità di un vero e botta e risposta, cioè non c'era la possibilità di un dialogo diretto tra i due perché veniva automaticamente tagliato il microfono in funzione di un minutaggio. Se non ricordo male era un minuto e un minuto. Cioè avevano la risposta e la domanda, diciamo domande e risposte, erano tagliate a priori dalla regia che tagliava il microfono. Quindi non si sentiva quello che rispondeva distinto l'avversario. Perché dico questo? Perché Donald Trump è una persona estremamente istintiva e questo ha fatto sì che avesse poi un tanto riscontro negli Stati Uniti. Perché vi ricordo ad esempio il dibattito che fece con Hillary Clinton diversi anni fa, quindi se non mi ricordo male 5-6 anni fa, quando appunto si confrontò con Hillary Clinton, fu famoso, per non dire famosissimo, quando rispose a Hillary Clinton, a una sua battuta, cioè a una sua risposta, rispose a una frase di Hillary Clinton dicendo tu sarai in galera. E questa divenne virale questa sua risposta perché faceva eco a un insieme di accuse che erano state mosse per le mail, per il fatto che fosse compromessa con una certa tipologia di messaggi per il caso Epstein, ma anche per l'Ucraina, per tutto il coinvolgimento nei partiti nazisti, per i finanziamenti all'Ucraina da parte di alcuni partiti vicini a Hillary Clinton e di alcune organizzazioni non tanto ben chiare. Insomma, questa parte qui era esclusa a priori proprio perché non c'era la possibilità materiale di farlo. L'agguato in più è stato ben organizzato perché c'erano questi due fact checker. Questi due fact checker tagliavano appena una persona diceva qualcosa che per loro era non vero e qui sappiamo benissimo che ad oggi il monopolio della verità ce l'hanno in mano i fact checker e quindi loro gestiscono e verificano le notizie in funzione della narrazione e in funzione della parte dominante del pensiero unico attraverso ad esempio Wikipedia il monopolio della verità e in questo modo pensate che Donald Trump è stato corretto 20 volte contrariamente che Kamala Harris è stato corretto tre volte nonostante Kamala Harris abbia detto tante imprecisioni e tante bugie anche ma sono state smentite solo da Donald Trump. I fact checker non sono intervenuti, l'hanno lasciata libera di rispondere. In più c'è un altro fatto fondamentale in questo dibattito che è talmente tanto ben visibile che Kamala Harris è un personaggio costruito. Perché costruito? Perché si vede il coaching. Io non so quanti di voi sanno che cos'è il coaching. Il coaching è quando si assume una, due, un'equip di persone per formarti a livello di tipologia di comunicazione, per essere preparato a un certo dibattito. C'è coaching oramai persone che fanno coaching per qualsiasi cosa. Io stesso ho fatto coaching, l'ho studiato, l'ho fatto, ho avuto la curiosità di essere, non so se in italiano c'è il verbo coaching, di subire il coaching, di farmelo fare dagli altri, di farmi insegnare dagli altri perché ero molto curioso di capire come poteva funzionare e nello stesso tempo mi sono messo a studiarlo per capire su quali leve comunicative arriva a poter istruire le persone, a poterle formare. Kamala Harris in questo dibattito ha usato più volte diverse tecniche del coaching. Una ad esempio è quella di spostare l'attenzione non rispondendo direttamente alla domanda ma rispondendo alla domanda con delle frasi pronte, preparate. Delle frasi ad esempio che lei ha utilizzato molte volte era quella che lei praticamente diceva ma perché dobbiamo votare per una persona che è già stata presidente, ci vuole fare qualcosa di nuovo, non ritornate al vecchio, volgete lo sguardo verso il nuovo. Indipendentemente dalla domanda che gli hanno fatto in molti casi non ha risposto alla domanda, ha puntato esclusivamente su questa tecnica. Sono tecniche di coaching perché? Perché gli hanno fatto preparare le risposte attraverso queste tecniche a priori. Cioè lei in sé per sé non ha fatto vedere nulla di quello che è come persona, non ha parlato neanche quasi mai dei propri programmi, ha sempre fatto leva su le cose che penalizzassero il suo avversario e di questo bisogna dire che è stata molto brava o meglio è stata molto ben preparata da altri. C'è anche un fattore fisico fondamentale che se volete dà ancor più adito alla mia teoria, cioè porta delle prove sostanziali, è che aveva un auricolare un po' particolare, aveva in verità un, scusate un lapsus freudiano, non era un auricolare, in verità era un auricolare camuffatto da orecchino che lei ha nell'orecchio sinistro e si vede molto bene perché lo tiene anche scoperto e questo fa anche un po' pensare che sia proprio, si tratti proprio di un auricolare dove lei può ascoltare qualcuno che gli suggerisce le risposte. Cioè mentre l'altro parla nel suo auricolare gli vengono passate già le risposte alla prossima domanda. Come improntarle? come partire? Come distogliere l'attenzione dal pubblico sulla domanda non rispondendo alla domanda ma capovolgendola frittata a livello comunicativo e sfruttandola a proprio favore? Queste tecniche di coaching sono molto valide ed è per questo che è tanto importante anche se voi ad esempio vi occupate di comunicazione studiarlo il coaching o assumere qualcuno che lo fa. Io lo faccio personalmente su molte persone per il cambio vita perché ci sono delle tecniche che sono ben sperimentate da tantissime persone, me per primo, che funzionano. Degli approcci mentali perché il coaching lavora sul vostro cervello, cioè vi mette a nudo alcuni funzionamenti del vostro cervello, alcune reazioni, ad esempio gli shock culturali per quello che riguarda il mio caso, per quello che lo faccio io, agli shock culturali e alla gestione degli shock culturali quando voi cambiate città, lavoro, nazione, cultura. In che modo potete gestire lo shock e in che modo potete sfruttarlo a vostro piacere e a vostro diciamo a vostro favore per alimentare non il panico, per non rimanere senza parole, per non essere presi diciamo in contropiede ma essere già preparati creando ad esempio degli scenari, creando delle possibilità e questo è quello che fanno il coaching. Il coaching si basa sulla PNL nel senso che se una tecnica funziona per Tizio, funziona anche per Caio e funziona per tutti. Perché? Perché quella tecnica in sé per sé è valida e quindi si vede che è valida attraverso un insieme di analisi e la si porta sugli altri. La tecnica di uno sportivo che ottiene degli ottimi risultati più di altri non solo per sue preparazioni fisiche ma anche proprio per uno stato mentale ecco che vengono applicate da dei bravi coach ad altri e questo funziona anche per la comunicazione, funziona per il modo in cui voi vi ponete, funziona per il modo in cui voi date delle risposte a certe domande. Quello che fa Kamala Harris è proprio questo, lei sicuramente avrà un'equipe di persone che gli fanno coaching, chiaramente è una potenziale presidente degli Stati Uniti quindi economicamente non avrà nessun problema ad assumere i migliori del mondo, i migliori magari degli Stati Uniti nel settore proprio politico per riuscire a mettere in crisi in questo caso Donald Trump. Donald Trump ha preparato probabilmente lui, forse anche lui fa uso di queste tecniche ma vedendo anche in funzione dell'età, Donald Trump non è il personaggio che si fa dire tanto da altri, come deve rispondere, perché deve rispondere in una maniera piuttosto che in un'altra, è una persona troppo istintiva e anche con una base sua di sue credenze quindi di autostima molto alta e di solito queste sono le persone più difficili da coachare, cioè sono le più difficili da ammaestrare, da istruire se io fossi il coach di Donald Trump, mentre un soggetto come Kamala Harris è molto più facile, molto più malleabile, sostanzialmente primo perché è impreparata e quindi lei ha voglia e si rende conto di essere impreparata, mentre Donald Trump che tra l'altro è già stato presidente quindi si vede sicuramente molto più preparato e questo è probabilmente l'errore più grave che ha commesso Donald Trump in questo confronto, non si è preparato all'altezza, non aveva idea di chi avesse davanti, tanto che lui l'ha considerata più di una volta una persona al suo pari, cioè si vede proprio da come lui si è posto, l'ha rispettata molto, mentre lei non lo ha rispettato per niente, l'ha trattato come un vecchio rimbambito, come una persona poco seria, che non rappresenta una minaccia, l'ha trattato in una maniera che gli è stata imposta, che gli è stata insegnata, non è una cosa sua naturale perché il suo comportamento, la sua gestualità, il suo modo di recitare faceva vedere una recita a memoria, faceva vedere che non c'era un coinvolgimento emozionale in quello che lei diceva, tranne in alcuni casi in cui, anche qui il coaching ha lavorato molto bene, emozionalmente lei si è spesso messa dalla parte emotiva della narrazione, per esempio per quanto riguarda l'aborto, per quanto riguarda alcune cose che sono per carità di giustissima dibattito, deve esserci un dibattito perché loro hanno una posizione diversa, quella di Donald Trump e quella di Kamala Harris, che in verità poi non è così diversa, è più politicamente diversa, sono più i sostenitori che hanno posizioni diverse, forse loro due in sé per sé non c'è tutta questa differenza tra loro due, per quello che riguarda ad esempio l'aborto, e lei più di una volta ha avuto quasi le lacrime agli occhi, si è coinvolta come donna, come mamma, nonostante mamma non sia, è un po' la stessa narrazione che segue quando parla dell'afroamericano e lei non è afroamericana, questa cosa qui sono sintomo di una sua preparazione, di una sua recita, cioè lei sta recitando, perché non puoi essere coinvolto per gli afroamericani se non sei afroamericana, difficilmente avrai le emozioni di una mamma se non sei mamma, le puoi avere se qualcuno ti insegna, ad averle, se ti prepari per farlo. Questo sostanzialmente è il mio punto di vista, perché poi l'agguato è stato veramente pesante per tutta l'ora di dibattito, perché hanno cercato comunque sempre di mettere nella condizione peggiore Donald Trump e nella condizione migliore Kamala Harris. Questa volontà è stata chiara più e più volte, basta che vi date un'occhiata anche a qualche piccolo filmato, qualche piccolo spezzone di questa intervista, di questo dibattito e vi renderete conto di quello che io sto dicendo. Spero di avervi dato qualche argomento in più di discussione e qualche riflessione che magari non avete ascoltato in altri canali, in altri media, sicuramente no. Vi ringrazio per essere stati qui fino adesso, vi invito come sempre a iscrivervi anche al mio canale Telegram che è nuovo nuovo, vi invito a cercarlo nei link che trovate in descrizione di ogni video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!